Ah, che due palle! E lui sempre lì a leggersi sto libro. Ma che c'avrà poi? Almeno si potesse mangiare. Va, io me la svingio. Ciao! E questi due che fanno? Sono in calore. Ehi, li inserisco anch'io. Eccomi! Coccole! Bello questo! Prova a prendermi, bastardo! Vaffanculo! Ehi, ehi, ehi tu! Dammi del cibo, ho fame! Ma che, una patatina? Ma dammele tutte, no? Ho sete, ho sete! Coccole! Dammelo, dammelo, ho fame! Ah no? Allora ti stacco quello che è in mezzo alle gambe! Sì, una palla! Ecco quello che voglio! Ehi, tu! Passami la palla! Dammi la palla! Ehi, dov'è? Mmm, che puzza! Ehi, passala a me! Passala a me! Eccomi qua, ragazze! Sono arrivato! Che odore strano! Cos'è in tasca? Cos'è quello? Che cazzo è? Coccole! Oddio, che fa? Oh, madonna mia! Mi sembrava molto più lento prima! Aiuto! Oh no! Mi viene da sboccare! Sto per sboccare! No! Sto per svenire! Oh! Che sogno! Ah! Troppi crocantini! Meglio smetterla! Ciao! Sboccare! Grazie a tutti.